Una delle novità K per il 2022 è l'aggiunta del bauletto nella serie K-Mission, quindi in alluminio, il bauletto da 44 litri. È un bauletto monoki, di conseguenza sgancio rapido con la piastra larga e ha le stesse caratteristiche delle laterali K-Mission, quindi abbiamo uno spessore del materiale di 1,5 mm alluminio, abbiamo tutti i rivetti in acciaio inox e soprattutto abbiamo all'interno degli stampi che formano gli angolari, abbiamo già inserite gli strap per le cinghie e le maniglie per il trasporto una volta che la valigia è staccata dalla moto. Come tutta la gamma K-Mission abbiamo realizzato una serie di risparmi ottimizzando l'industrializzazione del prodotto, questo vuol dire che questi risparmi in produzione si traducono in un prezzo più accessibile per il pubblico. Quindi questo nuovo bauletto K-Mission 44 litri di K, come sempre abbiamo sia la versione alluminio naturale che vedete qui e la versione powder code, quindi verniciata a polvere nera.